Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Rivelandosi senza filtri in un'intervista esclusiva con il Corriere, Arisa, la nota cantante siciliana, ha sorpreso tutti con dichiarazioni audaci sulla sua vita privata. Conosciuta per la sua trasparenza, Arisa non ha deluso le aspettative nemmeno stavolta. Recentemente ricordata per una performance meno che perfetta a Viva Radio 2, ha continuato a catturare l'attenzione con i suoi continui e sorprendenti cambi di look e stile, che talvolta lasciano il pubblico astento al passo con lei. Nell'intervista, ha rivelato di aver ricevuto tra le 1000 e 1500 proposte di matrimonio dopo un post ironico sui social in cui cercava un marito, sottolineando il cinismo dei rapporti moderni mediati dai social media. Ma la verità è che non cerca un marito, Arisa vuole evidenziare l'ironia della situazione. Le sue dichiarazioni non si fermano qui. Interrogata sulla questione se agli uomini interessi più la bellezza o l'intelligenza, ha risposto provocatoriamente, confessando di essere disposta a cambiare drasticamente aspetto fisico per amore, rivelando episodi del passato, in cui ha modificato il suo peso per compiacere un partner. Queste confessioni hanno scatenato reazioni miste sui social, con alcuni che criticano la sua visione delle relazioni sentimentali, ritenendola dannosa, mentre altri la sostengono, augurandole di trovare pace interiore prima di qualsiasi relazione. Arisa, con il suo stile diretto e disarmante, continua a dividere l'opinione pubblica, ma indiscutibilmente, non lascia mai indifferente. Che ne pensate di Arisa? Vi piace come artista? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie! Grazie!